ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale di breaktech ve l'avevo detto chi mi segue vi ringrazio veramente tutti quanti e tutti quelli che mi stanno seguendo sia su telegram che qui su youtube sapete che io vi porto e cerco di portarvi sempre delle novità sempre di prodotti che in molti altri grandi canali non portano perché comunque sono prodotti che non vengono ufficialmente che non escono ufficialmente con italia cerco sempre di portare un po la novità comunque del mercato google nei passati giorni ha presentato i nuovissimi pixel ne ha presentato un casino perché sono quattro in totale considerando anche il fold e noi oggi siamo pronti siamo penso tra i primi canali in italia a portarvi le prime impressioni del nuovo pixel 9 questa è la variante super quindi 9 pro xl adesso vi voglio fare un po facciamoci una chiacchierata perché sono proprio le prime impressioni io ho aperto da più o meno un'oretta lo sto iniziando a impostare tutto mi sto cercando di fare un'idea un po di che tipo di prodotto o tra le mani questo sarà uno di quei prodotti che vorrei tenere per un po di tempo vorrei portarvi varie vari video inerenti a questo prodotto perché google ha parlato tantissimo di questa intelligenza artificiale quindi vorrei portarvi un video inerente esclusivamente a questo tema quindi dell'intelligenza artificiale ma poi ci sarà la recensione completa e perché no anche un video inerente al comparto fotografico che secondo me è molto interessante ma adesso parliamo di questo pixel perché io sono un po critico per quanto riguarda questi prodotti perché io penso che google abbia verrà aveva in passato trovato la stata giusta tirando fuori nexus lo sapete qui abbiamo già parlato di questo discorso io vi ho già fatto questo discorso provando altri pixel e rimango sempre della mia idea google doveva continuare sulla linea di nexus prodotti veramente ottimi a cifre che erano diciamo sulla fascia di mercato più idonea a tutti quanti quindi i telefoni non costassero che non costavano 100 mila euro cioè mille euro mille cinque mille quattro ma telefoni che aveva che avessero comunque un prezzo giusto per il prodotto che era e che poi il prodotto era completo 360 gradi e ben ottimizzato grazie al software perché google è tutto software ragazzi lavora tantissimo sul software andando a migliorare smartphone che sono incredibili soprattutto lato cam io sono registrato questo video con pixel 4 4k a 30 fps e ancora oggi questo pixelino con tutti gli aggiornamenti ragazzi posso dirvi che è velocissimo quindi lavora molto bene lato software ma vediamo cosa troviamo perché questa è la scatola questa qua è la scatola del google pixel 9 pro xl questa è la variante più grande poi c'è la variante 9 pro che è un bocchettino più piccola la variante 9 che è quella che secondo me è interessante quest'anno perché costa meno viene tra l'altro al lancio con l'offerta 799 per il taglio da 256 c'è anche il taglio da 128 e questa è la prima critica google mettere un telefono nel 2024 con una memoria da 128 giga è veramente vergognoso come vergognoso sono la scelta delle scatole uno spende tanti soldi questo ragazzi costa tanto questo telefono siamo superiore 1300 euro ci troviamo una scatola che è ok per l'ambiente tutto quello che volete ma all'interno troviamo un semplice cavo dati type c e poi tanta manualistica che non vedrete non cagherete praticamente minimamente di striscio e non c'è nient'altro questa è una scelta che io non ho mai 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 approvato da quando la cara azienda apple ha lanciato questa questo trend e gli altri fenomeni quali samsung quali google hanno deciso di copiare questa scelta una scelta che è assurda visto che noi consumatori paghiamo mille passeur un prodotto io per mille passeur qua dentro ci voglio il caricatore veloce ci voglio una cover ci voglio una pellicola ci voglio qualcuno che quando lo apro mi dice fabbio ti faccio il caffè da adesso fino ai prossimi cinque anni e invece no noi paghiamo tantissimo per trovarci sempre meno dentro la scatola così poi siamo costretti a comprare accessori a parte spendere altri soldi accessori che ho comprato è comunque una cover sono stato costretto a prenderla subito visto che eccolo qui questo è il nuovissimo pixel 9 pro xl uno smartphone che non ha nulla a che vedere con il passato ragazzi qui abbiamo il nuovo iphone 17 pro max mi dispiace dirlo mi viene da ridere ma è un iphone è semplicemente un iphone google come ai come anche samsung niente da fare non riescono a pensarla con la loro testa non ce la fanno seguono quello che fanno con gli altri e hanno lanciato un prodotto che esteticamente ragazzi è bellissimo che a livello proprio touch and fill è super super premium approvata alla grande questa back cover europeo in colorazione grigia satinata non trattina le ditate ed è stupendo mi piace questo fascio dover chiudere tre ottiche fotografiche e qua abbiamo anche una periscopica abbiamo anche il sensore infrarossi anche un sensore mi sembra ieri da non so come si chiama quello proprio per la profondità bello perché comunque particolare almeno guardandolo da dietro si riconosce che è un pixel ma guardandolo davanti guardandolo tutto nello specifico anche nel frame con questo frame completamente in cos'è alluminio super lucido che si rovinerà tempo zero è praticamente un iphone né più né meno mi piace tantissimo lo trovo migliore del 8 pro ragazzi è un altro pianeta proprio il touch and fill questo sembra c'è un telefono premium assolutamente premium che da una sensazione veramente importante quando lo si utilizza quando lo si tiene in mano però però c'è anche una cosa positiva che ha fatto google ovvero il display il display ragazzi ha le cornici che sono tutte identiche questo ottimo super super risicate non si vedono neanche e il display è bellissimo qua abbiamo fatto un passo in avanti importante io questa oretta che la sto utilizzando l'ho utilizzato anche fuori devo dire che si vede benissimo display secondo me tanta roba ragazzi bello 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 cosa abbiamo sotto al cofino sotto al cofino abbiamo il nuovissimo tensor 4 g4 un processore che secondo me farà tanto parlare di sé sapete che i pixel vecchi lotto prove vale tensor 3 che è un processore di google di casa google dove pecca su tante cose non è a livello dello snapdragon 8 gen 3 non siamo a livelli di nuovi mediatek e sono processori diversi sono processori che operano in modo diverso che imparano l'utilizzo quotidiano che noi abbiamo con lo smartphone e che bisogna un attimo capirli con l'otto pro c'erano dei problemi ancora oggi su riscaldamenti vari dove c'erano dei comportamenti vari anche per quanto riguarda la batteria qui staremo a vedere come si comporterà nell'utilizzo quotidiano in questi giorni questo 9 pro xl vediamo nel diciamo nelle prime impressioni e lui è un fulmine è velocissimo quindi questa cosa mi piace e voglio dirvi qualcosa anche per il display perché ovviamente lui è 120 hertz quindi buono una risoluzione anche 1344 per 2992 quindi abbiamo una risoluzione veramente molto molto elevata che io adesso vado ad abilitare perché voglio il massimo voglio utilizzarlo veramente al massimo schermo si 120 hertz l tpo insomma prime impressioni lui mi piace esteticamente bellissimo questa colorazione stupenda display stupendo per il resto staremo a vedere non ho fatto ancora foto ho solo visto che con la cam principale quindi mettendola nelle foto abbiamo uno zoom che si spinge fino al 30 per vi farò vedere caso ma è soltanto uno scatto perché ho fatto proprio una foto al volo anzi la voglio fare proprio adesso che ci stiamo registrando andando inquadrare una cosa tipo l'elmetto di aerome e facendo vado a fare poi comunque lo zoom 30 per questo perché voglio farvi vedere come va a interpolare lavorare il software adesso poi ve lo giro lo vedrete voi in grande diciamo che c'è da lo devo utilizzare quindi vi dirò tutto abbiamo poi tutte le varie modalità esposizione lunga ritratto panoramiche eccetera eccetera video che si registrano fino al 4k si a 60 fps non c'è l'8k comunque ragazzi secondo me google quest'anno ha lanciato dei prodotti interessanti ripeto e tra il 9 al 9 pro xl non ci sono tante differenze in tutti e tre i dispositivi hanno il tenso g4 quindi l'ultimissimo processore sul 9 abbiamo perdiamo una cam è ovviamente più piccolo la batteria più piccola sul pro dovremmo avere la stessa eserazione di camere quindi anche lì forse ha più senso prendere il pro non lo so staremo a vedere io adesso questo lo voglio provare un'auto variante da 512 memoria ovviamente velocissime che dire ragazzi come primo prime impressioni sì mi piace cosa non mi piace è questa politica di google di continuare a copiare bello google che tira fuori i telefoni con schermi flat questo promosso a pieni voti ma ragazzi ve lo dico come lo prenderete lo tirerete fuori dalla scatola mi sembrerà un iphone e questa cosa a me non piace non mi piace perché mi vengono in mente i vecchi nexus che erano così belli così personalizzati così personali a livello proprio di carattere di google che voleva comunque essere un qualcosa di diverso nel mercato questa cosa si è andata un po perdere e sì che non è che si può fare chissà cosa però andare soltanto implementare un comparto fotografico in questa maniera ma poi tirando fuori un prodotto che veramente ragazzi siamo lì vabbè tante andiamo a provarlo si lo testo alla grande scrivetevi al canale lasciate un bel mi piace iscrivetevi su telegram perché ragazzi adesso in questi giorni metterò un casino di roba del pixel su telegram metterò tantissime video tantissime foto che farò con questo pixel e quindi mi raccomando anche su instagram lì troverete tutto io sono fabio da breaktech e dal pixel 9 pro xl anteprima assoluta e soprattutto prime considerazioni dai carino noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao